Gentili telespettatori, buona giornata. E' saltato fuori un altro virus che era estinto da circa 40 anni, qualcosa di più. Nel 1974 fino al 1981 il virus della poliominitera è stato dato per debellato dal pianeta. E' stato trovato di nuovo nelle fogne di Londra. Vabbè, insomma, poi si sono risvegliati lo show dei Novax che danno le colpe adesso a di tutto o di più. Ecco, qualcuno dice colpa di Bill Gates, vabbè, insomma, così ve lo dico per dovere di cronaca. Non solo di Bill Gates ma anche di Anthony Fauci che vogliono attraverso questo controllare il pianeta, microchipi, insomma, una serie di bufale ormai all'ennesima potenza. Ma così, tornando al virus della poliomelite scoperto di nuovo nelle fogne di Londra, durante un controllo di routine, nelle acque reflue della capitale londinese, trovate tracce del virus della poliomelite. Dal 2003 il Regno Unito dava considerata la malattia estinta, eradicata, e le autorità hanno promesso ai cittadini che verranno prese misure immediate. La notizia, che per i medici e gli esperti non deve comunque generare allarmismi, è stato un nuovo spunto per i Novax e per costruire teorie e ipotesi fantasiose. Ecco, il tutto però dimenticandosi che il vaccino per la poliomelite è obbligatorio in Italia e nella stragrande dei paesi occidentali e che sicuramente anche loro hanno effettuato questo quando erano piccoli. Va bene, si parla di complottisti, di chissà che cosa, però, insomma, questo virus è stato ritrovato e vedremo, perché già abbiamo il Covid, già adesso abbiamo il vaiolo delle scimmie, ci manca anche il ritorno della poliomelite. Grazie a tutti e arrivederci a presto.